Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato Il mare sulla tua tavola Gradisce, signore? Che party sarebbe senza Kolesky? Kolesky, carta plastica, party! Sempan, signore! Buongiorno! E che buongiorno stamani! Perché stamani mi è esploso la tradizione in testa! E che ho fatto? Sono andata a fare la spesa e ho comprato la trippa! E come si fa? Si fa la trippa alla Fiorentina! E mi occorre la trippa Io di solito la prendo sempre un po' mista Stamani, come facevo voglia, l'ho presa già fettata Già tagliata E poi ho fatto un triso di cipolla, carota e sedano Tanta cipolla, un po' meno carota e un po' di sedano E poi concentrato e polpa fine di pomodoro Niente altro Ah! Ci vorrà un po' di prezzemolo tritato che ho qui da una parte Procediamo Si prende Si accende il fuoco Si prende l'olio buono della hop E si mette Un po' di olio ci vuole, eh! Perché lo sapete Noi in Toscana L'olio per goccio d'olio in più Un po' di unto, di sano unto ci vuole, eh! Ecco qui Si prende il triso che ho preparato prima E si va a mettere Mmm! Già quando c'è l'odore del soffritto E l'è buono a questa maniera Abbondiamo, eh! Si abbonda E si fa appassire per qualche minuto Appassito che è il soffritto Ci si va ad aggiungere Metto la trippa Pensa se no mi si rovescia Prendo il pomodoro E lo vado ad aggiungere E a questo ci aggiungo anche Del concentrato di pomodoro Per dargli proprio Potenza, via! Poi il concentrato di pomodoro Era il Quando facevano sughi Gli umidi È l'ingrediente Che nella cucina toscana Contadina Toscana Nostra Regionale Non manca mai Per dargli sempre La spinta Un po' più di sapore Sapete? Ecco qui Ecco qua Quando è andato Un po' anche Il pomodoro Andiamo ad aggiungere La trippa Prendiamo Il sale Sale Si gira Pepe Una bella ampepata Pepe nero Macinato Fresco Così E poi Si va a allungare Con Un pochino di acqua Se volete Ci potete mettere Del brodo Quello che volete E del prezzemolo Trisaso Si gira E si porta A cottura Abbassando il fuoco Per circa Un'ora Un'ora e mezzo Guardate voi Lo allungate sempre Con Un po' di acqua O un po' di brodo Lo controllate E si deve Ritirare tutto Ci vediamo Quando è pronta Ecco qua La trippa L'è pronta E noi Si va A impiattare Si prende Il nostro piatto Mamma me Eccola Eccola Per te Opla Un po' di prezzemolino Fritato Se vi garba Delle fette Di pane Sostato Lo potete Servire Con Quella Però Si porta In tavola Così Profumo Sapore Di tutto E un bel filo Di pane Un bel filone Di pane Per fare La scarpetta E che Vuolete Di più Io vi saluto Anc'oggi Mi potete Vedere Sempre Alla solit'ora Vi aspetto Domani Alle 13 E 20 Sempre su TV Prato Canale 74 Del digitale Terrestre Ma ora Io con questo profumo Mi è venuto Un certo Languorino E allora Indò si va Indò si va Si va Dove siete voi A tavola Ciao Un bacio a tutti Buon appetito E io Voi mangiare Questo programma è stato offerto da Mar blu è ilio pesca prato Il mare Il mare sulla tua tavola Gradisce signore Che parti sarebbe senza Kolesky Kolesky Carta Plastica Party Sempan signore Sì 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 Sì